ehi sono gianardi benvenuti a quale trigger vogliamo iniziare bentornati al ventiquattresimo episodio della serie quale trigger guardati tutto il video osservando bene tutti gli oggetti due ascolta il suono dell'oggetto scelto da gianhard da me che verrà riprodotto senza essere guardato quindi solo il suono tre lascia un commento scrivendo due cose uno il nome del suono dell'oggetto che gianhard riproduce cercando di indovinarlo e due il nome dell'oggetto che ti piacerebbe ascoltare al prossimo episodio che hai visto nell'ultimo video nell'ultimo episodio ed infine hai un massimo di due possibilità da indovinare come possibile solo dell'oggetto nell'episodio precedente il suono dell'oggetto che ho riprodotto era di questo le noci rivolgo a tutti coloro che hanno partecipato all'episodio precedente i miei ringraziamenti ovvero a ciao bimbi bravissimi insieme a vostra madre chiamai di maio hp7sax daniel power franco neppi francesco saverio guerra noto smr e vera scarrone e adesso saluto ai vincitori dell'episodio precedente mando un saluto speciale a che saluto così bravissimi avete indovinato voi ed ecco l'oggetto bravi very good bravi very good bravi very good mando un altro saluto speciale a Gira o dog o gira Daniel Power Che saluto così Bravi Very good Con questa Pumpkin zucca Che è di vetro Un altro saluto speciale Va a Stellina I E Giammae Di Maio Che saluto così Bravi Un altro saluto speciale Va a Giuse Lady Trilli E i suoi figli Che saluto così Con questo funghettino Che ho ricreato io Molto morbidoso Bravi Un altro saluto speciale Va a Chiara Fansoop Che saluto così Con le stesse noci Che avevo usato Come trigger da indivinare E mi è piaciuta la tua scelta Brava A volte è bello utilizzare Lo stesso suono del trigger Da indivinare Come richiesto Come trigger richiesto Mando un altro saluto speciale A HP7Sax Che saluto così Con il suono delle foglie Ed infine Mando un saluto a Franco Nebi Benissimo Per questa settimana Abbiamo Una nuova tematica Ovvero oggetti Di colore Magenta Osservate Osservate e memorizzate per bene Tutti gli oggetti Memorizzato tutti gli oggetti Bene Adesso andrò a scegliere Uno Adesso Prestate attenzione Al suono dell'oggetto Che riprodurrò E provate a indovinare Di quale oggetto si tratta Quale trigger è? Benissimo E adesso Lascia un commento Scrivendo Due cose Uno Il nome del suono Dell'oggetto Che ho riprodotto Prima Due Il nome dell'oggetto Che ti piacerebbe Ascoltare Al prossimo episodio Che hai visto In quest'ultimo episodio Qui Bene ragazzi Noi ci vedremo Al prossimo appuntamento Settimanale Settimanale Della serie Quale trigger A presto Non Noi ci vediamo Noi ci vediamo Ja Noi ci vediamo Noi ci vediamo Grazie.